bene buongiorno a tutti siamo pronti per per iniziare la nostra webcast stiamo solo attendendo ancora qualche istante in modo da consentire a tutti gli iscritti di effettuare l'accesso e nel frattempo vi chiederei soltanto se mi poteste dare conferma tramite il pannello delle domande che vedete e sentite correttamente bene grazie intanto a chi sta scrivendo grazie ok bene allora a questo punto oltre a ringraziare chi mi sta dando un feedback tramite il pannello delle domande direi che siamo pronti per cominciare il pannello delle domande usiatelo eh nel caso vi venissero così dei dubbi delle curiosità durante lo svolgimento della nostra della nostra sessione ehm io non lo terrò eh costantemente aperto eh vedrò ogni tanto se c'è qualcosa di scritto ci teniamo poi un po' di spazio semmai al fondo per dare voce ai vostri dubbi e detto questo iniziamo da parte mia un buongiorno a tutti i presenti eh io sono Alessandro Alessandro Braghetto e sono uno dei tecnici di NKE Negroniki Engineering e mh guiderò insomma questa questa sessione di questa mattina dedicata eh a Revit inteso eh come potete vedere dal titolo come piattaforma di progettazione multidisciplinare integrata eh quindi cercheremo di fare un po' di di parole di cercherò di trasmettere qualche concetto qualche idea eh relativa appunto a cos'è Revit e a cosa può servire e a che cosa eh può portare l'utilizzo di Revit ehm io sono uno dei tecnici appunto di NKE mi occupo di seguire dal punto di vista tecnico alcuni software del mondo Autodesk eh una parte dei software dedicati al mondo dell'architettura dell'ingegneria delle costruzioni quindi il settore cosiddetto AIC ehm seguo utilizzo lavoro con Revit da eh da un po' di anni preferisco non dire quanti per così prima di entrare un po' nel merito della questione della sessione di oggi mh visto che tra di voi sono numerosi anche eh le persone nuove che magari ci conoscono relativamente poco eh ho preparato un veloce eh company profile quindi due parole su su NKE chi siamo dove siamo e di che cosa ci occupiamo eh NKE che sta per Negronic Engineering è un eh partner Autodesk una società di consulenza informatica dedicata anche alla progettazione eh composta da un certo numero di persone vedete che siamo ad oggi eh più di cento dislocate su una serie di sedi eh che coprono un po' tutto il il territorio nazionale eh ci occupiamo ovviamente di software ma anche poi delle attività che sono legate all'utilizzo dei software e vedremo in una slide più avanti un po' più nello specifico che cosa eh che cosa facciamo al di là della fornitura insomma delle eh delle licenze in questa immagine vedete dove siamo dislocati la prima sede quella di Milano la nostra sede principale che si trova eh a Limbiate e eh a cui poi si aggiungono una serie di altre sedi che coprono eh un po' tutto il territorio io vi sto parlando in questo momento dalla sede NKE di eh di Torino eh che è la seconda sede in termini di di numero di persone di volumi sviluppati e non ci sono solo le sedi italiane ma vedete che sono presenti anche le cinque sedi spagnole per cui di fatto NKE rappresenta per Autodesk non solo il principale partner tecnologico italiano ma anche eh il principale partner dell'area sud europea. Questi sono i marchi eh con cui lavoriamo eh prevalentemente Autodesk di cui siamo platinum partner che è la massima certificazione che Autodesk riconosce eh ai propri ai propri partner eh CHP per quanto riguarda la parte la parte hardware vedete poi robose e eh cam due vediamo un po' velocemente molto velocemente eh questi nomi questi brand a che cosa sono associati Autodesk inevitabilmente la conoscete eh più o meno approfonditamente ma sicuramente sapete che la una delle principali software house al mondo è l'unica che ha nel proprio portafoglio software le soluzioni che coprono i diversi mercati della progettazione eh dall'architettura l'ingegneria e le costruzioni che è quella che interessa un po' di più me e presumo anche voi che state seguendo questa eh questo webinar ehm poi i gli strumenti legati alla progettazione infrastrutturale piuttosto che la progettazione del mondo manifatturiero del cosiddetto mondo MFG e trasversale un po' a tutto vi è il tema della visualizzazione del rendering e dell'animazione insomma delle scene dei progetti per quanto riguarda HP eh siamo partner per quanto riguarda la parte hardware eh per cui noi utilizziamo e proponiamo le soluzioni hardware di HP per quanto riguarda World Station sia FIS che mobile e poi tutto quello che è necessario insomma per l'utilizzo eh dei software di disegno di modellazione di progettazione che utilizziamo per cui monitor stampanti eh plotter fino alle stampanti 3D per cui questo è un tema che forse è un po' più eh orientato verso il settore manifatturiero dove eh la prototipazione diventa un qualcosa di necessario nel momento in cui ci sono realtà che eh si occupano di sviluppo di modelli o di progetti o di stampi eccetera eh ma che anche nel settore dell'architettura in alcune situazioni è eh e come penso sappiate bene anche voi eh decisamente utilizzabile sempre legato al tema della stampa 3D da un po' di tempo oramai siamo anche partner di un altro marchio eh che è Robose un marchio italiano eh che sviluppa produce eh sistemi di stampa tridimensionale su materie diverse eh che si affianca eh in alternativa se vogliamo a quella che è la stampante eh le stampanti insomma di HP. Cam2 è il marchio italiano di Faro eh per cui l'azienda che sviluppa eh produce i sistemi eh per il rilievo qui ho riportato due eh esempi di quelli che sono i loro dispositivi per cui sulla sinistra il laser scanner eh che ha un'applicazione eh un po' più architettonica eh se vogliamo dedicata ad un rilievo di un'architettura di un ambiente piuttosto che di un territorio mentre sul lato destro quel braccio robotico serve per eh il rilievo di un di un componente o di di un oggetto da cui partire per poi un reference engineering quindi un contesto un po' diverso eh ma che sempre attraverso uno strumento di rilievo consente poi di andare a generare eh una serie di informazioni o una serie di matematiche che possano poi essere utilizzate all'interno dei software di disegno e di modellazione che usiamo. NK e vedete che si occupa eh di seguire dal punto di vista commerciale una serie di brand e poi parallelamente ci sono i servizi che vengono erogati e che vedono me e i miei colleghi tecnici coinvolti quotidianamente per cui ci occupiamo di assistenza eh che si svolge si si eroga attraverso un contatto telefonico o un collegamento da remoto sulle macchine su cui si presenta un particolare problema o eventualmente un'assistenza che viene svolta on site eh compatibilmente con quelle che sono le restrizioni del periodo attuale eh ma che eh insomma è un'alternativa è una pratica insomma che svolgiamo ormai da da molti molti anni. Ci occupiamo di formazione eh NKE è un ATC è un training center autodesca certificato per cui i corsi che svolgiamo che siano corsi eh standard eh quelli calendarizzati eh secondo un programma e un ordine predefinito piuttosto che i corsi che vengono confezionati su misura sulla base di quelle che sono le esigenze e le richieste dell'utente possono alla fine del del percorso di formazione consentirvi di ottenere il certificato eh ufficiale autodesk formazione che viene fatta online piuttosto che eh che è un site. Master Beam lo vedremo poi in una slide successiva cercheremo di capire un po' meglio di che cosa di che cosa si tratta. Ci occupiamo anche di gestione di progetti eh per cui nel lato manifatturiero da molti anni ormai eh andiamo avanti con progetti dedicati alla gestione documentale piuttosto che quei software di gestione del ciclo di vita del prodotto eh ma siamo molto attivi anche per quanto riguarda i progetti BIM quindi legati al building information modeling e in questo senso ci occupiamo eh di fornire eh un affiancamento su quello che è un progetto da sviluppare eh un aiuto nel momento in cui c'è la necessità di definire i contenuti piuttosto che gli standard eh da utilizzare per lo eh per lo sviluppo del progetto così come ci occupiamo di sviluppare direttamente il modello magari sulla base di informazioni CAD che riceviamo quindi quell'attività di CAD to BIM che vedete altro non è che eh la creazione lo sviluppo di un modello di informazioni a partire da dati magari bidimensionali che ci vengono forniti eh in CAD. Siamo sviluppatori quindi la parte di apps development che vedete altro non è che è lo sviluppo di applicazioni che vanno ad aggiungersi eh su quelli che sono gli strumenti nativi dei software quindi quando c'è la necessità di integrarli con eh una nuova funzionalità che di fabbrica il software non prevede interveniamo con la creazione di un'applicazione ad hoc. Certificazioni ehm NKE da alcuni anni è sede di certificazione ICMQ eh io sono uno degli esaminatori per quanto riguarda la parte di bin specialist e bin coordinator questo per una questione ovviamente di competenze e di esperienze pregresse ehm ma al nostro interno sono presenti gli esaminatori anche per la parte bin manager e bin data manager eh cosa significa che possiamo ehm ospitarvi e farvi sostenere l'esame di certificazione ICMQ su quelle che sono le figure previste dalla dall'attuale normativa eh questo vuol dire poter sostenere il test di certificazione presso una delle nostre sedi o online ehm e se superato appunto l'esame ottenere la certificazione ufficiale ICMQ abbiamo una piattaforma dedicata alla formazione eh per le learning eh si chiama Learn for Work è un sito che potete eh consultare e vedere quali possano essere i contenuti eh all'interno di questa piattaforma sono presenti i siti i corsi che abbiamo fatto nel corso degli ultimi mesi eh che possono essere rivisti eh sono disponibili le registrazioni e i materiali necessari per poter eh replicare quanto è stato fatto durante il corso e mh con un'assoluta libertà di di fruizione quindi nei eh senza limiti di tempo o di orario c'è la possibilità di rivedere appunto le lezioni che sono state registrate e eh una possibilità di formazione che va in parallelo con quella che è la formazione live che eh periodicamente facciamo per cui sono presenti a calendario una serie di corsi che chi partecipa ha la possibilità insomma di interagire direttamente con con il docente cosa che non è così immediata eh per chi segue invece il corso tramite le registrazioni ma sono due modalità di eh di formazione complementare assolutamente complementare e veniamo invece al tema eh al tema di quest'oggi oggi parliamo del di Revit eh inteso come piattaforma di progettazione multidisciplinare integrata e questo è un po' eh il titolo che ho voluto dare alla sessione di questa eh di questa mattina ehm di cosa parleremo eh quest'oggi parleremo degli strumenti di modellazione che abbiamo all'interno di Revit cercheremo un po' di capire quali siano eh cercheremo di capire eh perché ho deciso di aggiungere nel titolo il termine piattaforma eh e che cosa comporti questo cercheremo di capire quali siano gli strumenti legati al coordinamento dei progetti eh agli strumenti di analisi eh strutturale che abbiamo a disposizione al agli elementi relativi all'acciaio quindi still connection piuttosto che eh una parte invece più legata in un certo senso alla programmazione allo sviluppo eh inteso come Dynamo e gli strumenti del generative design che sono stati introdotti eh recentemente o almeno con l'ultima eh l'ultima versione di Revit questi sono un po' i principali titoli non parleremo solo di questo vedremo anche eh vedremo anche altro ovviamente che cercheremo un po' di scoprire durante eh durante la sessione non parleremo eh di comandi non parleremo di funzionalità eh non disegnerò eh con Revit vuoi perché presumo che certi concetti non siano eh ormai più così nuovi come poteva essere in passato vuoi perché ci sono nel nostro sito una serie di eh registrazioni legate proprio ad altre sessioni in cui abbiamo mostrato come eh come lavora Revit oggi vorrei invece che ci concentrassimo su quelle che sono le possibilità eh che ci offre Revit in termini generali e di collaborazione e di coordinamento e di collegamento con altri strumenti eh che magari non sono neanche presenti in Revit ma che partono da Revit e ci portano verso verso altre strade qualche dubbio quindi partendo dal titolo della sessione di oggi eh piattaforma multidisciplinare integrata questi sono un po' i tre termini che guideranno la nostra la nostra sessione ehm e partirei insomma da un da un concetto o da una serie insomma di concetti che sono sicuramente non nuovi eh che presumo abbiate già visto magari sotto forme diverse questo grafico eh in cui viene mostrato il building information modeling quindi il database che si pone al centro eh di questa corona in cui sono presenti i vari attori eh coinvolti nello sviluppo del progetto o le diverse discipline insomma che possono essere coinvolte nello sviluppo del progetto quindi quando si parla di BIM di building information modeling si parla di un modello eh sì di un edificio ma carico ricco di informazioni una rappresentazione che sia computabile eh quindi gli oggetti che definiscono il modello che sono ricchi di informazioni eh relative al comportamento relative alla descrizione alla loro caratterizzazione devono poter essere ehm descritte riportate all'interno di una serie di tabelle dove la tabella altro non è che una dei possibili modi che abbiamo eh per visualizzare il nostro progetto quindi elementi grafici rappresentazioni grafiche rappresentazioni eh tabellari degli attributi che questi elementi hanno di fatto il modello che si viene a definire non è semplicemente una rappresentazione 3D di un'idea eh di un edificio o di una parte insomma di un edificio ma è un archivio di informazioni un database appunto database strutturato database che deve consentire l'integrazione e quindi poter andare a sovrapporre eh discipline diverse andare a sovrapporre i modelli relativi a fasi differenti o momenti differenti del progetto secondo quelli che sono i diversi livelli che il progetto stesso può avere che sia quindi lo studio di fattibilità che sia il progetto definitivo piuttosto che il progetto definitivo un modello che sia integrato un modello che sia più evoluto e che quindi si comporti come un database e non una semplice rappresentazione di un'idea eh deve agevolare quello che è il lavoro in team deve agevolare la comunicazione delle informazioni deve poter consentire a utenti che hanno competenze diverse di poter collaborare eh su un progetto magari eh centralizzato dove ognuno si prende carico di una parte del modello lo sviluppa eh coinvolgendo inevitabilmente anche gli altri progettisti che sono coinvolti eh ma in modo più coordinato e non con rappresentazioni slegate che producono poi eh inevitabilmente incongruenze eh cercando di ridurre il più possibili errori se riusciamo a farci guidare un po' dagli strumenti è possibile che eh gli errori appunto si riducano eh sarebbe bello poter dire che si annullino del tutto ma sicuramente è destinato a ridursi la quantità di errori che si possono eh andare a creare all'interno del disegno anzi del modello che essendo appunto coordinato e aggiornato andrà appunto a ridurre quelle che possono essere le problematiche presenti all'interno del del file quindi in sintesi eh semplificando magari un po' sintetizzando quello concetto di di BIM eh la creazione di un modello che possa comunicare che possa informare anche gli altri utenti che sono coinvolti ovviamente senza che ci sia una perdita qualitativa di quelli che sono gli elementi o le rappresentazioni degli elementi eh poter collaborare dialogare con con altri altri colleghi altri progettisti i partner che usano magari lo stesso nostro software e questo per noi sarebbe eh molto ma molto positivo no ne saremo tutti contenti ma siamo consapevoli che eh non esiste solo quello di cui stiamo parlando oggi Revit ma esistono altri strumenti che inevitabilmente partecipano allo sviluppo del progetto e dobbiamo cercare di fare in modo che le informazioni e le rappresentazioni insomma del modello non si perdano nel momento in cui si deve dialogare con altri utenti che usano altri strumenti la cosa diventa eh come dire fattibile nel momento in cui si parla di di piattaforma il BIM quindi non è da intendere come un processo un software eh il BIM non è il modello che si produce con Revit sicuramente Revit è necessario eh per poter entrare all'interno di questo processo e poter creare sviluppare un modello composto da geometrie composte da informazioni ma il Building Information Modeling è indubbiamente un un processo una sequenza se vogliamo di attività che porta alla creazione di un modello 3D composto appunto da grafica composto da informazioni quando si parla di BIM eh probabilmente la I la lettera di questo acronimo che risulta più importante le informazioni che sono associate agli oggetti il modello 3D può essere generato eh con un software dedicato e magari condiviso poi con altri utenti attraverso un'esportazione in IFC eh quindi attraverso un formato di interscambio che possa consentire la comunicazione tra piattaforme o tra software diversi oppure si può pensare di lavorare su una piattaforma software dove allora c'è uno scambio dei dati tra i diversi ambienti tra gli diversi strumenti che si utilizzano per sviluppare il progetto tra le varie soluzioni possibili quella che eh potremmo dire possa essere considerata come preferibile è sicuramente la soluzione di una piattaforma sono andato a cercarmi un po' di informazioni di delle definizioni no? Di quei termini che abbiamo visto prima eh la piattaforma è un nome generico di strutture piane e resistenti che servono da base che servono da appoggio o da collegamenti o che rendono il possibile il passaggio in questo caso il passaggio delle informazioni multidisciplinare significa che che riguarda più discipline più materie eh anche campi di indagine o di studio differenti integrata eh che è completata dalle parti mancanti o che è sviluppata attraverso l'aggiunta di altri elementi costituita da parti più o meno organicamente interconnesse e anche all'interno di quest'ultima definizione ritroviamo di fatto un concetto che vedremo tra poco nel momento in cui capiremo quali sono eh gli ambiti no? In cui ricade questo il fatto che eh quanto sviluppiamo all'interno di un modello richieda inevitabilmente poi l'appoggio eh la l'aiuto di altre soluzioni che non sono magari presenti all'interno del software con cui il modello 3D viene a nascere quale strumento quindi ci permette di sviluppare un modello che sia composto da geometrie ed attributi eh che sia multidisciplinare quindi si occupi di discipline diverse che consente di integrare i diversi modelli e le diverse informazioni che sono presenti all'interno degli oggetti sviluppate eh con il medesimo strumento o eventualmente sviluppati da altri software è una domanda un po' come dire eh scontata in questo senso perché di fatto possiamo vedere Revit non soltanto come uno strumento con cui sviluppare un modello 3D ma un modello 3D che diventi anzi che diventi Revit una sorta di piattaforma da cui partire per collegarsi poi con altre eh funzionalità con altre soluzioni tecnologiche che magari non sono neanche presenti all'interno di Revit e che vadano a sviluppare che proprio perché sono nate eh per occuparsi di una determinata tematica ehm che vadano a sviluppare appunto nel modo più dettagliato e accurato possibile quella parte di informazione o che ci mostrino e ci rendano disponibili quegli strumenti per poter sviluppare nella maniera più completa possibile quella parte di progetto. Noi sappiamo che Revit ha al suo interno una serie di strumenti dedicati al mondo architettonico. Qui ho riportato né più né meno che eh la scheda architettura eh della nostra barra multifunzione di Revit ehm che potremmo dire che per certi versi sia molto simile a quella che abbiamo anche in Revit LT eh non parlerò mai oggi nello specifico di Revit LT né evidenzierò quelle che possano essere le differenze presumo che sappiate però che esiste anche questa soluzione no? Più semplice con con delle funzionalità mancanti rispetto alla versione completa eh e sicuramente molto meno multidisciplinare di quanto non sia Revit e orientato diciamo verso la parte architettonica sappiamo che esistono gli strumenti dedicati alle strutture dove non ci sono solo gli strumenti per poter aggiungere gli elementi strutturali ma ci sono poi gli strumenti anche per arricchire poi questi elementi strutturali con elementi di rinforzo le armature eh piuttosto che le connessioni delle parti in acciaio non ho riportato la scheda nota con gli strumenti di annotazione legate eh alle parti alle parti del rinforzo ma penso sappiate che su Revit è possibile eh nella scheda nota ritrovare quegli strumenti che si dedicano proprio alla quotatura e quindi all'aggiunta delle annotazioni su questo tipo di oggetti sapete che su Revit esiste una parte relativa agli impianti la scheda sistemi in cui sono presenti le funzionalità i comandi per poter definire appunto un un sistema meccanico un sistema elettrico piuttosto che un sistema plumbing o piping come la chiamano alcuni eh con cui si va a sviluppare una un insieme un modello composto da oggetti tra di loro interconnessi relativa alla parte idraulica di alimentazione o eventualmente di scarico queste sono le tre principali discipline che abbiamo all'interno di Revit ognuna delle quali ci consente di andare a sviluppare un modello o una parte di modello quindi poter creare il modello architettonico del nostro edificio eh poterlo visualizzare secondo quelle che sono eh le rappresentazioni classiche eh che sono anche poi magari necessari a livello poi di tavola no quindi le piante i prospetti le sezioni le viste di dettaglio le viste 3d o gli spaccati assonometrici la parte architettonica un po' propedeutica se vogliamo poi al resto no funge un po' d'appoggio anche per i modelli strutturali o per i modelli impiantistici e per tutti e tre eh i settori per tutte e tre le discipline eh vale una regola per cui gli elementi sono personalizzabili sarà possibile customizzare ogni singolo elemento che entra all'interno del progetto sia esso un muro attraverso la sua stratigrafia l'assegnazione dei materiali e della grafica che deve essere utilizzata per rappresentarlo o un oggetto 3d ma come potrebbe essere una porta o un sistema d'arredo dove allora in quel caso potrebbero subentrare altre informazioni eh ad esempio i parametri le proprietà per controllarne larghezza altezza i parametri relativi al materiale per controllarne le finiture o informazioni legate al numero di oggetti che possono essere inseriti per cui quando posiziono quel tavolo con le sedie potrei decidere in funzione della dimensione del tavolo quante sedie debbano essere inserite e quindi utilizzare le regole utilizzare questi attributi per definire delle relazioni tra gli oggetti informazioni che finiranno prima o poi meglio prima anche all'interno di tabelle e la tabella dobbiamo considerarla io qui ho inserito tre semplici abachi che è possibile generare all'interno di un modello architettonico una visualizzazione alternativa di quelli che sono i contenuti la tabella non è da intendersi solo come un report da generare alla fine di un percorso che ci descriva quanti elementi abbiamo e di che tipologia magari sono questi elementi dobbiamo considerare l'abaco come uno strumento attivo per cambiare il nostro progetto esattamente come una pianta ci permette di disegnare di modificare i contenuti e allo stesso modo possiamo permetterci di farlo in sezione in prospetto o in 3d analogamente anche la pianta ci dà la possibilità di cambiare di fare delle scelte di modificare il tipo di una porta magari inserito in un determinato ambiente la tabella deve essere considerata come uno strumento che raccolga recepisca le informazioni presenti ma al tempo stesso uno strumento per poter lavorare con il progetto e lo stesso discorso potremmo dirlo trasferirlo anche sulla parte strutturale quindi possiamo andare a sviluppare un modello strutturale del nostro edificio magari andando ad assemblare famiglie differenti non saranno più magari elementi architettonici come una porta una finestra ma si tratterà di pilastri di travi di elementi di fondazione anche qui con dei parametri anche qui con delle relazioni che vengono a nascere fra gli oggetti all'interno di Revit il modello strutturale che sto vedendo lo posso realizzare non è detto che però quello che faccio il Revit sia sufficiente per validare quello che è il modello è possibile che debba arricchirlo di informazioni attraverso magari l'inserimento appunto dei rinforzi attraverso l'inserimento degli oggetti di armatura come potete vedere in queste immagini dove ho preso un elemento una trave ho inserito poi un'immagine di una di una scala con i ferri che sono stati sono stati inseriti sulla sinistra vedete invece un oggetto modellato un elemento di forma libera che comunque in grado di ospitare l'elemento armatura le relazioni vengono a nascere anche su oggetti di questo tipo e che ci porteranno poi alla creazione di quelle viste necessarie per documentarlo questo lo possiamo fare con con Revit non è detto che ci basti però quello che è possibile fare con Revit diventerà magari necessario portare il nostro modello verso quei software dedicati all'analisi all'analisi strutturale io qui ne ho citato uno eh un po' per campanilismo se vogliamo io riportato robot struttural analysis ma non c'è ovviamente solo robot che consenta di far questo il vantaggio che possiamo avere nel momento in cui utilizziamo robot e poter sfruttare quella che l'integrazione con Revit il fatto che io possa portare il mio modello definito all'interno di Revit in un ambiente dedicato non solo alla modellazione perché di fatto robot anche questo è ma che mi permette invece di andare ad utilizzare le funzionalità legate all'analisi strutturale o la verifica strutturale la possibilità di cambiare gli oggetti che non superano la verifica e poterli rimandare all'interno del progetto per cui in questa situazione in questo caso abbiamo la possibilità di sfruttare una reale bidirezionalità tra i due ambienti oppure ho la possibilità rimanendo all'interno di Revit di andare ad arricchire ulteriormente quelli che sono gli elementi strutturali inseriti eh attraverso delle app sviluppate ad hoc qui ve ne ho citate alcune di una software house tedesca che si chiama Sofistic eh è integrato quello che state vedendo in Revit per cui da Revit non si esce sostanzialmente mai eh e consente di andare a inserire in maniera molto più agevole rispetto a quelli che sono gli strumenti di inserimento dei ferri di Revit questo tipo di elemento non solo eh l'aggiunta del rinforzo o eh il disegno laddove c'è una forma complessa che debba essere eh debba essere gestita ma anche tutta la parte relativa poi alla successiva documentazione o annotazione questo tipo di strumenti sviluppati ad hoc si basano su Revit eh si lavora di fatto all'interno di Revit con una serie di eh di tab all'interno della barra multifunzione che gestiscono e semplificano questo tipo di attività analogamente questo tipo di discorso lo potremmo anche eh vedere su una struttura composta da elementi in acciaio io posso io aggiungo modello la mia struttura in acciaio in Revit ho la possibilità ovviamente in Revit di andare ad inserire anche quelli che sono eh le connessioni strutturali e quindi poter definire i nodi di collegamento tra elementi in acciaio diversi tra una colonna e una trave o tra sistemi di travi diversi gli elementi che vedete sono elementi di Revit eh sono elementi sempre parametrici che vengono gestiti all'interno di Revit che consentono di andare a eh aumentare quello che è il livello di dettaglio della della nostra modellazione ma sempre eh come dire finalizzata non a una semplice rappresentazione grafica ma poter avere anche poi tutte le informazioni e le documentazioni poi necessarie per questo tipo di elementi quindi Revit in sé ha i suoi strumenti legati alla struttura in acciaio che possono entro certi limiti magari anche essere sufficienti laddove questo non si verificasse possiamo il nostro modello di Revit pensare di gestirlo altrove in un altro ambiente dedicato e anche qui ho citato uno strumento eh che si collega eh in modo proficuo con Revit ed è Advanced Steel quindi il modello di Revit eh si muove verso Advanced Steel qui vedete un esempio un'immagine dell'interfaccia con quelli che sono i contenuti eh degli strumenti e poi le soluzioni insomma a cui si può arrivare consideriamo che quello che avete visto poco fa in Revit dal punto di vista delle connessioni deriva sostanzialmente da qui quindi c'è già una eh come dire una parentela una relazione tra questi due software qui possiamo permetterci di gestirli in modo decisamente più accurato eh anche delle particolarità magari andarle a gestire in modo eh in modo più agevole ma proprio perché questo tipo di strumento nasce per andare a eh risolvere le problematiche relative a un modello strutturale in acciaio sempre garantendo però la bidirezionalità quindi l'importazione eh del modello di Revit e poi il modello aggiornato in Advanced Steel rimandarlo in Revit stesso il vantaggio di lavorare su un ambiente dedicato a questo tipo eh di elementi ci dà la possibilità di sfruttare non solo la parte di modellazione ma anche la parte di documentazione e quindi le tavole le tavole con eh magari le distinte poi da inviare all'officina per per il taglio per le lavorazioni che devono essere eseguite possono essere agevolmente gestite all'interno di questo di questo ambiente che è un ambiente di modellazione a tutti gli effetti ma che può essere visto come un ambiente di modellazione complementare a Revit quindi il modello di Revit arriva qui qui si sviluppa eh si aggiorna si correggono quelle che sono situazioni magari eh non corrette dal punto di vista delle geometrie rimandate in Revit o portate poi sulle tavole necessarie poi alla produzione di questo tipo di oggetti su Revit abbiamo gli elementi gli strumenti per poter sviluppare creare un sistema un sistema meccanico di ventilazione riscaldamento aria condizionata quindi l'HVAC eh piuttosto che una rappresentazione di un sistema idraulico o di un sistema eh di un sistema elettrico e questo penso che bene o male lo conosciate se vi siete occupati anche voi di questo tipo di di attività è possibile che i modelli che sviluppano il progetto che definiscono anzi il progetto siano modelli diversi e che chiedevano poi entrare eh e relazionarsi fra di loro Revit è un software aperto che ci dà la possibilità cioè di inserire in vari modi eh geometrie che provengano dall'esterno non è focalizzato e limitato solo su quello che è il formato nativo di Revit quindi non non dobbiamo non siamo limitati ammesso che questo sia un limite ai file nativi RVT possiamo gestire questo tipo di dati li possiamo sovrapporre cosa che avviene molto spesso no in un modello multidisciplinare dove magari appunto i modelli non vengono gestiti dallo stesso progettista ma vengono gestiti da eh progettisti diversi o da team diversi possiamo importare anzi collegare i file IFC quindi file di interscambio che provengono da software diversi che possono entrare nel nostro modello ed essere utilizzati per definire delle relazioni per controllare quello che è il posizionamento degli oggetti che riguardano magari la nostra disciplina ho ignorato vedete in questo elenco i file CAD eh non perché non siano meritevoli ma perché il collegamento CAD può essere utile in altre situazioni non sicuramente quello in cui c'è da gestire un modello eh dove ci riporteremmo in casa solamente le geometrie ma verrebbero meno le informazioni che invece eh definiscono e arricchiscono i nostri oggetti possiamo inserire da qualche release una topografia realizzata con civil e quindi poter sfruttare quelli che sono gli strumenti di modellazione del territorio semplifichiamola in questo modo che abbiamo su civil territorio terreno che viene generato a partire da ortofoto che viene generato a partire da nuvola di punti magari realizzata con un laser scanner o con un drone una geometria una matematica che possa entrare all'interno del progetto ed è un collegamento questo fa sì che si conserva la parte dinamica l'aggiornabilità dei dati analogamente possiamo far questo anche per le nuvole di punti ho inserito eh anche il modello di coordinamento di Navisworks questo è una è una proprietà che non così spesso viene utilizzata ma in realtà è estremamente potente perché ci dà la possibilità di poter inserire delle geometrie anche molto complesse all'interno dei progetti eh modelli che magari sono sviluppati con software neanche architettonici sto pensando ad esempio i software di moderazione meccanica come potrebbero essere inventor solidworks pro e eccetera ehm laddove c'è la necessità di eh sovrapporre modelli legati proprio a due mondi a due mercati diversi come quello manifatturiero e quello eh quello architettonico o quello ec generalizziamo un po' di più ehm Navisworks diventa la strada preferibile sia per un discorso di semplificazione delle geometrie e poi proprio per una eh integrazione di fatto degli oggetti all'interno del del progetto di Revit quindi l'NVD che è il file il documento creato da Navisworks e che potrebbe comporsi anche da una serie di modelli differenti può diventare parte di un progetto di Revit essere visualizzato sezionato esattamente come se fosse una geometria importata più semplice nel momento in cui si parla di coordinamento dei progetti almeno all'interno di Revit eh diventa importante capire quali possono essere gli strumenti che ci mette a disposizione Revit da questo punto di vista nella scheda collabora è presente quel gruppo di comandi che ho riportato sulla parte destra quel gruppo coordina in cui è possibile ehm gestire o avviare anche se in modo semplice se vogliamo un primo controllo delle interferenze così da valutare la eh bontà e la correttezza delle geometrie che sono state posizionate ovviamente Revit non nasce come software di coordinamento ci dà degli strumenti di coordinamento ma se dobbiamo andare a sviluppare questo tipo di tema dobbiamo spostarci verso quel quel mondo che si dedica a questo tipo di attività e ne abbiamo una sicuramente facilmente raggiungibile che appunto Navisworks il modello di Revit passa può passare direttamente all'interno di Navisworks non c'è una eh come dire ehm bidirezionalità in questi casi in questo caso ma perché di fatto su Navisworks non ci si occupa di modificare quelle che sono le geometrie ci si occupa di analizzarle di poterle eh verificare dal punto di vista delle interferenze ad esempio quindi quel clash detection che ho riportato altro non è che un controllo delle interferenze ma è elevato all'ennesima potenza eh innanzitutto può essere eh memorizzato nel file ripreso nel tempo soprattutto quando i modelli vengono aggiornati possono essere definiti clash detection diverse per gruppi o per selezione di oggetti particolari il modello di Revit finisce all'interno della scena di Navisworks insieme a decine di altri formati che Navisworks è in grado di gestire per cui non c'è la necessità di convertirli in formati più primitivi eh Navisworks li può ereditare li può aggiungere li può mettere in sovrapposizione e poi sui modelli così federati sarà possibile gestire il controllo delle interferenze poterli navigare anche in modo semplificato proprio perché le geometrie subiscono una conversione che le porta ad essere molto a molto più navigabili e quindi anche più esplorabile il modello stesso e c'è la possibilità poi di eseguire ulteriori analisi come potrebbe essere quella relativa al tempo per dare anche una pianificazione alla realizzazione del del modello stesso i file di Navisworks come dicevamo poco fa possono essere collegati all'interno di Revit quindi vediamo che anche eh per questo tema particolare abbiamo la possibilità di rientrare in in scusate in Revit non in modo diretto ma proprio perché non è prevista una modifica delle geometrie ma indirettamente ritorniamo in Revit e quindi abbiamo la possibilità di visualizzare nel nostro progetto un assieme complesso eh composto da geometrie eh la cui provenienza potrebbe anche non essere così nota poi c'è la parte relativa alla allo sviluppo ehm una parte molto affascinante eh io trovo magari non così eh così semplice non alla portata di tutti e mi ci metto io per primo ehm molto affascinante perché ci dà la possibilità di sviluppare all'interno di Revit ci dà la possibilità di creare quelle funzionalità che Revit non prevede di suo Dynamo è un'applicazione anzi potremmo dire che fosse un'applicazione fino a qualche anno fa da alcune release ormai è integrato in Revit quindi viene installato contestualmente a Revit e ci mette a disposizione un ambiente in cui possiamo creare degli script come quelli che vedete in questa immagine nella parte in alto insomma la forma potrebbe essere magari anche un po' poco comprensibile per chi non ha eh mai visto non ha mai approcciato questo tipo di eh di tema il senso di quei rettangoli che vedete e eh che altro non sono che dei nodi che svolgono delle azioni o leggono delle proprietà e poter costruire un un comando che porti alla creazione ad esempio di una geometria l'immagine che vedete qui in basso eh queste strutture o questo modello con quella forma particolare che vedete sulla destra altro non è che il risultato dell'esecuzione di quello script quindi possiamo definire delle regole che ci portino a creare delle geometrie delle geometrie che saranno poi geometrie di Revit i nodi che vediamo ci servono per andare a definire la creazione di elementi strutturali piuttosto che di muri ehm di pavimenti di facciate continue che nascono però attraverso la sequenza di operazioni che vengono create non nascono dallo strumento di disegno che noi ritroviamo nella nostra barra multifunzione questo apre a scenari estremamente variegati eh avevo pensato di fare un elenco di quelle che potevano essere le applicazioni possibili di uno strumento come potrebbe essere Dynamo ma in realtà non ci sarebbe lo spazio sufficiente per contenerle perché di fatto possiamo creare geometrie possiamo pensare di far creare geometrie a partire da dati che sono eh contenuti in un file Excel possiamo usare Excel come elemento di lettura di informazioni per riportarle poi all'interno degli oggetti di Revit o possiamo da Revit andare a scrivere all'interno di un file di Excel sostanzialmente per semplificare molto il tema potremmo dire che con Dynamo abbiamo la possibilità di creare dei nuovi comandi o creare delle geometrie a partire da una sequenza di operazioni che definiamo e questa idea ci porta anche a quello che è il generative design questa è una novità che è stata introdotta con Revit 2021 ma che in realtà riprende eh un'applicazione che era stata messa in test da Autodesk qualche eh qualche tempo fa ovvero la possibilità di eh adesso mi spiace che la prima immagine sia così sgranata me ne scuso eh la possibilità di poter all'interno di un progetto di Revit chiedere un'analisi di quelle che sono eh le caratteristiche del nostro progetto e far calcolare processare ad un'intelligenza artificiale e sulla base di parametri che vengono da noi definiti quali possono essere delle soluzioni alternative il nostro progetto diventa un punto di partenza degli input che noi andiamo a definire con degli intervalli all'interno del quale eh l'intelligenza artificiale debba muoversi e che ci si proponga poi delle soluzioni soluzioni che potranno poi essere anche graficamente rappresentate come vedete nell'immagine qui in basso eh qui c'è una una serie di di immagini che rappresentano sostanzialmente un interno una stanza vetrata e una serie di tavoli quei tavoli sono disposti in modo diverso a seconda dell'orario e questo ci mostrerà quale sia l'illuminazione percepita dai diversi tavoli nelle diverse fasce orarie questo ci potrebbe aiutare per andare a compiere poi la scelta definitiva su quale possa essere la disposizione ottimale di quel tipo di elemento all'interno del progetto quindi è un po' come se fosse eh un qualcosa di simile a quello che avete visto prima su eh su Dynamo quindi una sequenza di operazioni che vengono organizzate che vengono applicate all'interno del progetto per poterci aiutare a compiere le scelte migliori lavorando all'interno di un'interfaccia che ci consenta di definire quali possano essere le proprietà da considerare e di conseguenza questo ci consente di guidare eh la l'intelligenza artificiale sulle soluzioni che potrà poi fornirci l'immagine che vedete qui a destra è un'immagine eh invece presa dalla barra multifunzione in cui sono presenti due comandi per poter creare appunto lo studio eh del generative design ed esplorare poi di conseguenze i risultati attraverso la finestra che si sovrapporrà al nostro progetto visualizzazione anche questo è un tema che rientra spesso e volentieri nel momento in cui si lavora con Revit quindi il nostro modello magari avrà la necessità di essere poi presentato e possiamo farlo anche in questo caso utilizzando strumenti diversi strumenti che abbiamo all'interno di Revit Revit ha un suo motore di rendering integrato per cui il modello è già eh come dire pronto soprattutto se lo abbiamo preparato opportunamente attraverso un'assegnazione di materiali ai nostri elementi ma può essere sottoposto ad un processo di rendering Revit da alcune versioni utilizza i physical material che sono una tipologia di materiale eh più corretta dal punto di vista della visualizzazione che meglio si adatta a quello che è il motore di rendering interno di Revit possiamo gestire le luci fotometriche quell'immagine che ho collocato al centro altro non è che eh la rappresentazione della fotometria della sorgente di illuminazione applicata ad una ad un dispositivo di illuminazione quindi il file IS che altro non è che la descrizione di come la luce viene distribuita all'interno del dell'ambiente può essere un dato inserito all'interno della nostra scena e usato per il processo di rendering in alternativa al rendering in locale abbiamo sempre la possibilità di appoggiarci al cloud e quindi poter eh sfruttare la parte hardware che ci mette a disposizione Revit sapete che è possibile abbiamo tutti a disposizione dei eh crediti cloud che possono essere usati proprio per accedere a questo tipo di servizi non è detto che il rendering in Revit sia sufficiente magari possiamo vogliamo portarci verso un ambiente o uno strumento che sia dedicato a questo tema e possiamo farlo attraverso 3d studio quindi 3d studio ci dà la possibilità di importare o ci dà la possibilità di collegare direttamente il modello di Revit le geometrie si muoveranno all'interno della scena di 3d studio potremo ritrovarci all'interno di questa scena non solo la geometria quindi la parte 3d ma anche le informazioni che abbiamo dato agli oggetti informazioni legate alla visualizzazione quindi il materiale associato le luci eventualmente anche le fotometrie che abbiamo inserito piuttosto che le cineprese le camere questo insieme di informazioni migra sia in importazione che in collegamento una volta che poi abbiamo la scena eh popolata all'interno di 3ds max potremmo decidere di conservare quelli che sono i materiali potremmo decidere di modificarli i materiali le luci le camere il sole stesso in funzione magari poi del motore di rendering con cui siamo confidenti o che decidiamo di utilizzare eh all'interno di 3ds max sicuramente a livello di qualità eh l'immagine che andiamo a produrre con 3d studio è qualitativamente superiore rispetto a quella che possiamo ottenere su Revit Revit non nasce come software di visualizzazione ci dà la possibilità di farlo ehm entro certi limiti ovviamente se abbiamo la voglia una necessità di evolvere da questo punto di vista possiamo portarci verso quel software eh che storicamente è uno dei software più più utilizzati e più apprezzati per quanto riguarda la visualizzazione e potremmo magari anche all'interno di 3ds max usare quei tool che non sono presenti in Revit ne ho citato uno eh che secondo me può essere molto utile che è il perspective match ovvero quella funzione che permette di eh allineare sovrapporre la scena l'inquadratura di 3d studio a quella che è un'immagine di sfondo per magari poi produrre una situazione di eh valutazione di impatto ambientale ma sul tema della visualizzazione in Revit si aprono infiniti scenari eh e anche su questo vi rimando un po' a qualche nome che magari avete già sentito magari già utilizzate tutti e tre gli esempi che qui ho riportato sono tre software che di fatto lavorano ereditano il modello di Revit e lo gestiscono lato visualizzazione eh Twinmotion, Enscape, Lumion. In tutti e tre i casi la geometria nasce in Revit e poi viene arricchita all'interno di ognuno di questi con eh tecniche diverse con eh qualità differenti anche se vogliamo poi su questo io non mi sbilancio e lascio poi ad ognuno eh la valutazione su quale possa essere il migliore dei tre ammesso che ci sia ma in tutti e tre i casi abbiamo la possibilità di lavorare con strumenti che sono dedicati a questo tipo eh di soluzione quindi con un'ottimizzazione una semplificazione di fatto del processo una produzione delle immagini eh sicuramente più più rapida rispetto a quelli che possono essere i tempi di produzione delle immagini con altri con altri strumenti e la possibilità di gestire la visualizzazione in real time con l'applicazione di effetti diversi dalla vegetazione al effetti atmosferici come possono essere il tempo il vento piuttosto che la pioggia eccetera sono tutti e tre software molto ma molto potenti tutti e tre molto ma molto affascinanti eh e per chi si occupa di visualizzazione possono essere visti come eh quello step se vogliamo superiore rispetto a quello che è storicamente tra di studio max eh per una visualizzazione che sia più rapida e una produzione eh se vogliamo più eh più rapida proprio del del rendere in definitivo sono riuscito a rimanere abbastanza nei tempi e qualche conclusione ma molto ma molto velocemente abbiamo parlato di Revit come vi ho detto all'inizio non abbiamo usato i comandi non abbiamo usato gli strumenti le funzionalità non abbiamo visto come Revit lavora perché immagino lo sappiate abbiamo visto che Revit è un software di progettazione multidisciplinare perché abbiamo gli strumenti per poterci dedicare allo sviluppo di ogni singola parte del progetto modelli che possono essere differenti e che poi possono essere aggregati integrati in un unico modello attraverso la composizione di file nativi o attraverso la composizione di file che provengono dall'esterno abbiamo visto che con Revit abbiamo la possibilità di dialogare verso software che sono specializzati su un particolare tema ma non è semplicemente spero che sia passato il concetto un'esportazione quella che facciamo anzi quasi mai lo è stato abbiamo visto che di fatto il dato impostato definito su Revit si muove eh in modo diretto verso altri prodotti verso altri strumenti garantendoci eh una linearità garantendoci una maggiore efficacia e eh garantendoci soprattutto la conservazione delle informazioni che vengono associate alle nostre geometrie ok allora io ho concluso se ci sono delle domande io lascerei a voi la voce utilizziamo il pannello se ci fosse la necessità passo solo alla slide successiva nel frattempo che eh se ci fossero delle domande vi invito a scriverle ecco qui ho riportato quelli che possono essere alcuni riferimenti utili quindi il nostro sito nke360.com e qui ritroverete informazioni su quelle che sono un po' le attività che facciamo ehm al momento prevalentemente via web eh quando poi ci sarà la possibilità anche eh gli eventi fisici che faremo sul territorio un'email nel caso eh dobbiate vogliate contattarci fermo restando che potete utilizzare anche il riferimento che vi ha eh da cui eh avete ricevuto l'invito per collegarvi alla sessione di oggi e poi eh i social media quindi rimaniamo in contatto possiamo rimanere in contatto anche attraverso LinkedIn piuttosto che Facebook YouTube in cui sono presenti anche le registrazioni delle sessioni precedenti che abbiamo svolto e su cui troverete poi anche le sessioni che verranno a seguire allora ringrazio tutti per la partecipazione auguro a tutti una buona giornata buon lavoro rimaniamo in contatto scriveteci chiamateci se abbiamo se avete bisogno di altri approfondimenti e a tutti voi buona giornata ok Grazie.